Influenza 2016, la parola d'ordine è recuperare terreno dopo il forte calo delle vaccinazioni dell'anno scorso. In Puglia si è pagato un prezzo altissimo, il doppio dei casi, 62 pazienti in rianimazione, 22 decessi. Giovanni Rezza, l'Istituto Superiore di Sanità punta sia sui medici ma vuole stimolare le regioni? Certamente il compito dell'Istituto è supportare il Ministero della Salute e le regioni con evidenze scientifiche che facilitino e aumentino la copertura vaccinale. E quest'anno scende in campo anche il vaccino adiuvato MF59 che è particolarmente vantaggioso per chi ha compiuto 65 anni. Michele Conversano. Sì, è un vaccino che appunto per la presenza dell'adiuvante espone molto di più l'antigene nei confronti del sistema immunitario. Nel sistema immunitario di un anziano che subisce il fenomeno dell'immunosenescenza, cioè invecchia e quindi reagisce meno, abbiamo bisogno di questo aiuto e proprio questo vaccino permette di avere un'efficacia di produzione di anticorpi sia numericamente che dal punto di vista anche qualitativo, che protegge l'anziano dalle complicanze dell'influenza. Ed è quello che noi ci aspettiamo con questo vaccino. Un vaccino più appropriato proprio per la popolazione anziana.